Il potere dei senza potere, interrogatorio a distanza con Vaclav Havel, è una mostra che sarà presente quest'anno a Rimini. Conoscere il pensiero di Havel e il suo operato politico mi insegnano che politica è l'esperienza della connessione viva tra le mie parole e le mie azioni e le parole e le azioni degli altri. Havel è un uomo che ha vissuto nella verità e che si è impegnato in tutto se stesso per vivere nella verità. È stato un comediografo, ha fatto il saldatore, ha fatto il chimico, ha fatto lo scaricatore ed è sempre stato un dissidente. Lui diceva che la prima forma di fare politica è vivere, è vivere nella verità e vivere nella libertà. Lui, vivendo in un regime che opprimeva la libertà delle persone, opprimeva la società, imprigionava le persone, Havel è stato a lungo in carcere, ha deciso, ha capito, ha vissuto e ha testimoniato che contro le ideologie e contro il potere non serve un'altra ideologia, non serve un altro potere, ma serve la vita nella verità. L'esempio migliore che Havel fa è quello di un verduraio che è obbligato dal potere a mettere tutti i giorni un cartello in mezzo alla frutta e alla verdura, che dice proletari di tutto il mondo unitevi. Lui un giorno decide che non mette più quel cartello. Havel dice che questa è un tentativo di vita nella verità, di fuga dalla menzogna a cui il potere mi obbliga, la palla di neve che inizia a rotolare e che ha portato alla rivoluzione di Velluto, cioè al rovesciamento di un regime che durava da 70 anni, senza spargimento di sangue. Perché Havel nell'ottobre dell'89 è ancora in carcere, nel dicembre dell'89 è presidente della Repubblica Cecoslovacca. La sua testimonianza, la sua ricerca della verità, il suo pagare per questo, secondo me è un messaggio che per oggi è estremamente attuale. L'eredità di Havel è anche di fare politica e vivere, e vivere intensamente la vita cercando nella vita il suo senso, la sua verità e assumendosi la responsabilità di giudicare, di cambiare il mondo in base alla verità che si incontra e che si persegue. Grazie. 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 Grazie.